Il 12 novembre del 2019 ricorre il centenario della morte di un illustre personaggio inglese, Lord Thomas Holnout Conte Brassi. Questo video documentario si propone di raccontare la sua vita con particolar riferimento al periodo storico in cui frequentò la zona della Sardegna in cui ora ci troviamo. Alle mie spalle potete scorgere la vallata che ospita i villaggi di Ingurtosu, Pizzinurri e Naraccauli e che termina sul mare con le dune di Piscinas. Saranno questi i luoghi che faranno da cornice al docufil che sta prendendo avvio. Il 12 novembre del 2019 ricorre il centenario della Sardegna in cui ora ci troviamo. Il 12 novembre del 2019 ricorre il centenario della Sardegna in cui ora ci troviamo. Il 12 novembre del 2019 ricorre il centenario della Sardegna in cui ora ci troviamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.